Gagliato un colpetto Forse il colpetto ti si va dai Drio Ah ma quanti pinghe qua? Drio Nemico? Secondo me è lui che ti ha sparato in uno qua Drio Drio qua Dio scuro Eh chi è che ha azzaro Mirko? Come fare questo? Eh Sì Vabbè venendo voi altri Contratto fallito Obiettivo perso Qua dietro Trocchi scudi Non lo vedo Vabbè Dietro il car armato Atacco col mordaio in arrivo Ah no C'è l'un shot L'è senza scudi Sì effettivamente Qua è dentro il muro Quello Tarato Direzione Mirko Ciochino Non è anche filmare in pace Qua Uno l'è sopra qua Quello è quello che scende Arriva l'attacco con mordaio adeato L'è qua dentro sta casetta qui adesso Qua qua in mezzo qua One shot E' qua che arriva il tipo di prima Il tipo di prima Lì Perché non mi faccio una maschera Dio Tutto l'avanti mi spara anche Occhio deve essere Il mirano da dietro Sì Sì Si Era tanto Vedi io Gente al negozio, la resta due volte, bisogna da solo Sì, lo so Essi in tre No, te la cechina qualcuno Disastro Non so, perché non importa Ma te la vieni a casa Ma te la vieni a casa Ma te la vieni a casa stordente Ti sembra anche d'osso così Oh mio dio Che cazzo è successo Bella, bella Bella Chi dici ti vedi ti massacra Ti sei senza ripari Sì, grazie a di avermelo detto Bisogna anche te provo Mi sono già mirando Mi sono già mirando Mi sono anche messi abbastanza ben Qua ti salissi anche in safe A mezzo qua No, hai già entrare a sinistra Eh, sì Porco dio Caglio Ma te che è un cazzo è molto difficile Però non l'ho assisto Hai uno di uno di uno Ah sì Perio? Un ottogheria a sinistra Non so cosa che hai visto prima Ecco Aspetta, mi è morto Uno contro uno Penso che sia Eccola, è insieme a montagnetta Insieme a montagnetta Non so cosa vuoi Nei In questi Eccola C'è 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 U.A.B. in uscita dall'area operativa. Soldato nemico in arrivo. Soldato nemico in arrivo nell'area. Soldato nemico in arrivo. Sino Raggiungi la zona sicura UAV nemico nel settore Soldato nemico in arrivo Nemici usano un ricognitore UAV nemico nel settore Un attacco aereo Raggiungi la zona sicura Raggiungi la zona sicura Raggiungi la zona sicura Consiglio di pulire subito alla zona sicura C'è molta strada da fare Arrivare gas, marco la nuova zona sicura. Un avvio stile attivo. Arrivare gas, marco la nuova zona sicura. Arrivare gas, marco la nuova zona sicura. Forza! Arrivare gas, marco la nuova zona sicura. 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 Arrivare gas, marco la nuova zona certi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.